Cambiamo argomento, venerdì prossimo lo sciopero generale nazionale indetto da CGL e Will. I due sindacati si sono presentati oggi davanti allo stabilimento Whirlpool di Comunanza per chiedere ancora una volta di essere convocati dal Ministero delle Imprese. La prevista fusione con Arcelic con le annesse incognite è la questione sul tavolo. Per i sindacati va preservato uno stabilimento fondamentale per le aree interne. Sentiamo allora Francesco Monti. Whirlpool per noi è stata una pagina piuttosto amara, nel senso che questi otto anni ci hanno visto purtroppo andare sempre indietro a livello produttivo e a livello occupazionale. Confidiamo sul fatto che la nuova proprietà continui a scommettere ancora su questo sito. Speranza e timore. I 320 dipendenti dello stabilimento Whirlpool di Comunanza restano in attesa di conoscere il futuro del sito produttivo. CGL e Whirl hanno organizzato un volantinaggio in vista dello sciopero generale di venerdì, le cui motivazioni si incrociano con l'avvertenza che riguarda l'ex indesit. Perché si concretizzi la costituzione di una nuova società con il passaggio ai turchi di Arcelic del 75% dell'attività della multinazionale in Europa, Medio Oriente e Africa, si aspettano i risultati dell'indagine dell'antitrust britannico dopo il via libera europeo. Ma intanto i sindacati rinnovano la richiesta di essere convocati al Ministero delle Imprese. L'ultima richiesta di incontro è stata proprio di un mese fa. Credo che se ancora il Ministero non ci dà la risposta siamo pronti a mobilitarci proprio perché il Ministero finalmente si degni di convocare un tavolo ad hoc per il caso Whirlpool. Sia lo stabilimento di Comunanza sia il sito produttivo di Fabriano, per un totale di 1500 dipendenti nelle marche più l'indotto, sono centrali nell'economia delle aree interne per CGL e Will. Il contrasto allo spopolamento del post-sisma passa anche da qui. In un territorio come il nostro poi, per questo il collegamento anche con la Whirlpool, un'area interna, se non si riesce a garantire una strategia di sviluppo che abbia una prospettiva futura e stabile, questo significa anche abbandonare un territorio per noi fondamentale e importantissimo.